Buonasera, siamo qui fuori al Sol Express, abbiamo un locale noto della Movida di Cancello, è qui davanti a noi la Primula Russa della Russo Collection che stiamo intervistando che deve darci delle considerazioni sulla squadra molto importanti, prego. Salve, buonasera. Salve, senta, ma per caso sa darmi il pronostico sulla prossima partita? Ho avuto informazioni che il nostro fantasista purtroppo è assente e quindi mi sa che la prima è poi ci farà molto male il giovedì seta, molto male. Ma chiedo scusa, quindi il fantasista va a scuola di Lucia della Movida? Sì, proprio lui. E lei che cosa pensa di fare? Eh, io sto pensando di non venire, anche io di dare il forfetto. E come vai? Perché? Non vorrei andare incontro a certe figure di merda che si possono evitare. Volevo avere posto. Va bene, chiudiamo questa intervista. Abbiamo detto tutto, abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto, abbiamo detto tutto. Eeeh! Ahahahah!